Ciao, sono Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, innanzitutto ti chiedo come stai perché abbiamo appreso di questo tuo affaticamento muscolare, che cosa può comportare in chiave su Tirol e poi ti volevo chiedere, tu sei un attaccante che la Serie B l'ha fatta parecchio, hai anche fatto bene, hai girato tanto, questo tuo arrivo a Palermo come lo inquadri nell'ottica della tua carriera? Deve essere un punto di consacrazione, un ulteriore punto di miglioramento? Grazie. Buongiorno intanto a tutti, sì lunedì durante l'allenamento, durante la fine dell'allenamento ho sentito questo piccolo affaticamento, abbiamo parlato col mister, abbiamo deciso che ieri e oggi anche penso farò un lavoro differenziato proprio per essere pronto domenica, sabato scusate, per stare bene e per poter essere a disposizione. Per quanto riguarda invece l'arrivo a Palermo, sicuramente per molti magari sarebbe un punto d'arrivo perché Palermo è una squadra storica dove chiunque c'è stato mi ha sempre solo parlato bene, quindi per me innanzitutto è motivo di orgoglio essere qui, dopodiché io voglio, come ho sempre fatto dappertutto e come farò sicuramente anche qui, dare il massimo per la squadra a prescindere da me stesso proprio, quindi farò tutto il possibile per far sì che il Palermo vinca ogni sabato, ogni domenica e darò tutto me stesso e poi a livello personale, sai la cosa per un calciatore, per un attaccante uno pensa è sempre fare più gol, fare più gol, io invece a me piace proprio giocare a calcio, quindi farò il meglio possibile per divertirmi me e per far divertire i tifosi e per vincere le partite e per segnare tanti gol o fare tanti assist. Ciao, benvenuto, durante il soggiorno in Inghilterra Manchester avete focalizzato l'attenzione su determinati aspetti, mi riferisco a condivisione, compattezza, gruppo, a questo proposito ti chiedo se il proprio gruppo è la parola chiave in un Palermo che è alla ricerca di un'identità definitiva e in un campionato difficile come questo appunto di Serie B, grazie. Sì, ti rispondo di sì assolutamente e ti do anche il mio perché, perché io sono arrivato qui e la cosa che mi ha impressionato di più nella quale ho parlato anche a tutti, ai miei compagni, allo staff, alle persone che incontro, ai miei familiari è del fatto che questa squadra è un grande gruppo con la G maiuscola davvero perché sono tutti bravissimi ragazzi, si mettono tutti a disposizione e ti racconto un particolare del fatto di questo affaticamento, nessuno si è disinteressato di me, mi hanno tutti chiesto, hanno tutti voluto sapere come stessi, da Bruno, da Matte, al terzo portiere, Giovanni davvero e questo per me significa, nonostante io sia qui da tre settimane e abbia giocato in campionato, forse venti minuti neanche, però significa che già ci tengono, già hanno comunque iniziato a conoscermi in campo e per me è un motivo diciamo di unione, compattezza di squadra che secondo me è la cosa che in Serie B, visto che comunque qualche squadra l'ho girata, serve molto perché in Serie B il gruppo fa più del 50% e sono sicuro che se inizieremo a capire meglio insieme a tutti gli innesti che ci sono stati e ai giocatori tra virgolette vecchi che sono qui potremmo toglierci delle grandi soddisfazioni. Filippone della Repubblica Ciao Luca, ben ritrovato, tu Filippone di Repubblica, tu sei stato presentato anche come vice di Brunori ma come un attaccante che può giocare in tutti i ruoli, volevo sapere da te che tipo di giocatore tu sei, che tipo di giocatore ti ritieni di essere e anche che contributo pensi di poter dare a questo Palermo soprattutto appunto in fase offensiva. Poi lì a Manchester vi abbiamo visto molto lavorare proprio sugli schemi offensivi proprio a livello anche tattico e tu ti sei mosso bene nel secondo tempo con Nottingham. Come state lavorando per migliorare le performance in attacco dove servono più gol? Innanzitutto come ho detto prima mi sono trovato bene con tutti i miei compagni ma oltre che fuori dal campo anche in campo quindi sicuramente poi io dovrò iniziare a conoscere sempre meglio loro ed è difficile farlo in praticamente solamente due settimane d'allenamento perché alla fine tra una cosa e l'altra sono state due settimane e quindi fuori dal campo ma anche in campo mi sono trovato bene perché vedo una grande disponibilità da parte di tutti a partire veramente da tutti i centrocampisti, tutti i difensori, tutti gli attaccanti si mettono a disposizione per far sì che il compagno faccia meglio. Io sono un attaccante che mi piace giocare, ho sempre giocato a due punte praticamente, molto spesso e per me giocare, ti dico un modulo per esempio 4-3-3 quindi con una punta centrale per me è quasi una novità anche se in nazionale qualche volta l'ho fatto, mi piace, mi piace giocare a una punta ma mi piace giocare con un'altra punta mi piace giocare da esterno quindi il ruolo per me è irrilevante perché se uno è bravo a giocare a calcio gioca dappertutto gioca esterno, gioca a mezzala, gioca a destra, a sinistra quindi io conosco le mie qualità, so cosa posso dare alla squadra e farò in modo che il mister e tutti lo capiscano e che possa giocare il più possibile. Buongiorno Luca, l'Atalanta è da anni che ti manda in prestito in Serie B in varie squadre pensi che Palermo possa essere la piazza in cui tu possa trovare una stabilità anche in ottica futura per una cessione a titolo definitivo e poi parlavi poco fa di altre persone che ti avevano parlato bene di Palermo se ci puoi dire con chi hai avuto modo di parlare prima di venire qua, grazie. Beh sì, sono sempre stato in prestito in tante squadre dove magari ho cambiato qualche volta a gennaio Palermo è da come sto vedendo forse la piazza più grande dove sono stato a livello proprio di stadio, di tifoseria, di stampa, di tutto quindi sarebbe un onore poter continuare qui però siamo a settembre quindi dirti che andrà tutto bene è troppo facile o è troppo diciamo difficile anche quindi non saprei dirtelo, spero di riuscire a convincere tutti a poter continuare questo progetto perché a Manchester si è visto veramente che il progetto c'è è un grandissimo progetto e far parte di questa famiglia per tanto tanto tempo sarebbe per me un onore dopodiché riguardo a Palermo ho parlato della città praticamente con un mio amico un mio caro amico con cui ho giocato tanti anni insieme che è Giovanni Crociata che è al Sud Tirol quindi lo incontrerò sabato mi ha parlato sempre bene, la città è fantastica, sono andato a visitarla qualche volta un paio giusto perché non avevamo tanto tempo però anche come squadra, come tifoseria Jacopo l'avevo sentito, Segre l'avevo sentito prima di venire qua mi aveva parlato di questo ambiente e mi aveva detto che si sta veramente bene e lo posso confermare Ciao sono Valerio Trippi dell'Agenzia Anza un pochino hai risposto però mi incuriosisce quando hai scelto Palermo sei arrivato in una squadra in cui c'erano già Brunori 29 gol l'anno scorso, Soleri 12 gol da subentrato è il tuo ruolo, la tua professione, cosa è scattato? Voglia di dimostrare di essere più forte, insomma voglia di far parte di questo gruppo come hai detto? È una decisione particolare perché un attaccante arriva dove ci sono già due colleghi strutturati, diciamo così, grazie Sì, Soleri lo conoscevo, l'ho conosciuto anche ai tempi delle nazionali quindi ci ho giocato insieme è uno stimolo perché alla fine è troppo facile magari andare a giocare in una squadra dove sei solo tu e non c'è nessun altro quindi è un'altra tappa della mia carriera che mi farà sicuramente crescere da questo punto di vista mi farà competere con due grandi attaccanti ma non parlo solo di Bruno e di Sole ma anche di Mariano, di Floriano, di tutti gli esterni perché come ho detto non gioco solo punta centrale posso giocare dappertutto davanti e quindi sono qui per crescere sono qui per dimostrare di essere un giocatore di poter stare al Palermo e non vedo l'ora di giocare Sì, intanto benvenuto a proposito di questa girandola di prestiti ti volevo chiedere per un attaccante giovane come te come si fa a trovare le motivazioni cambiando ogni volta città, gruppo, metodologia di allenamento e se questo bagaglio di esperienza ti ha motivato di più ti ha lasciato qualcosa nel tuo bagaglio, nella tua carriera e poi come già hai detto se speri davvero di piantare radici a Palermo Sicuramente mi hanno aiutato a vedere tutti i lati della scelta quindi non sono venuto qua solo per una cosa o solo per un'altra cercherò di fare, come ho già detto il meglio in tutto prendendo dal mio bagaglio personale tutte le esperienze che ho fatto tutti i miei errori che ho fatto per poter poi non farli più per poter essere la miglior versione di Luca all'interno di uno spogliatoio la miglior versione mia all'interno di una squadra in campo per poter aiutare al massimo i miei compagni lo staff, chiunque abbia bisogno di un mio aiuto e certo, come ho già detto sarebbe un onore poter stare qui non sono io a deciderlo purtroppo quindi cercherò di convincere tutti che sono da Palermo Ciao Luca, benvenuto tu al tuo arrivo in aeroporto avevi detto che non vedevi l'ora di giocare al Barbera l'hai fatto contro il Genua uno stadio strapieno che sensazioni hai avuto e poi il tuo record di gol se non sbaglio è 10 in Serie B l'obiettivo è magari provare a raggiungerlo cercandoti quello spazio che come dicevi con Bruno Ori, Soleri e tutti gli altri attaccanti non sarà semplice da trovare sicuramente non sarà semplice da trovare però come ho già detto sono qui non sono un'altra squadra ho deciso di venire da Palermo e quindi farò di tutto per poter giocare il più possibile ovviamente non sarei vero se ti dicessi il contrario perché Bruno ha fatto bene l'anno scorso anche solo ha fatto bene l'anno scorso però questo è un altro anno io sono qui farò di tutto non per forza per togliere il posto agli altri non voglio pensare agli altri voglio pensare a me stesso sotto questo punto di vista quindi cercherò di fare il massimo che posso fare per poter giocare che sia in coppia con chiunque che sia da solo che sia in tre non lo so questo lo deciderà il mister però io farò di tutto per poter giocare il più possibile Ciao Luca la domanda verte più sulla nazionale tu hai fatto tutta la trafila delle formazioni giovanili non hai mai avuto l'onore di giocare nella maggiore considerando anche il momento un po' di transizione del reparto offensivo e considerando la piazza in cui ti trovi speri che Palermo oltre che una piazza per consolidarti come giocatore ti possa anche mettere in un certo senso in vetrina per guadagnarti anche una convocazione quest'anno anche in futuro Beh con questa domanda mi fai sorridere perché la nazionale per me è sempre stata il massimo secondo me non c'è club che tenga in generale nel mondo per un giocatore che giocare per la propria nazione si è visto gli europei dell'anno scorso dove alla fine dei giocatori che erano di tutte le squadre ma alla fine la nazione si è riunita ed ha festeggiato un europeo fantastico e avere la possibilità di avere una convocazione ed essere a Palermo sarebbe tanta tanta roba io sicuramente lavorerò giorno dopo giorno per guadagnarmela vedo che che ci sono state anche delle convocazioni da parte della serie B quindi il mister guarda anche la serie B e io farò in modo di metterlo in difficoltà il più possibile Sì sarò su questa domanda abbastanza diretta possiamo dire che il tuo obiettivo sarà convincere Gorini a farti giocare con Brunori perché se no che stagione sarebbe se Brunori e Vido non giocassero e il Palermo salisse in serie A non sarei stato contento lo stesso penso di sì però penso che a livello personale la parte tua potrebbe essere un obiettivo assolutamente certo io farò di tutto in mio potere davvero dal mangiare bene al riposare al giocare giocare bene per mettere il mister in condizione di farmi giocare lo farò con Corini lo farò con Mancini quindi riguardando la domanda prima davvero io sono qui solamente per giocare a calcio non sono qui per andare in giro a Palermo o per andare in giro al mare sono qui veramente per giocare a calcio e mettere tutte le mie forze tutto me stesso per il Palermo calcio ed è quello che farò giorno dopo giorno senti poi per concludere ci dobbiamo aspettare un Palermo diverso dopo questa parentesi a Manchester nella gara col Suttirollo un Palermo con più certezza un Palermo più consapevole un Palermo che anche non può neanche più tanto sbagliare io ti dico che che anche prima facevamo il massimo sono stato poche partite quindi te lo posso dire per le partite in cui sono stato ho visto una squadra che dava il massimo per poter raggiungere il risultato non ci è riuscito magari non sempre però sono sicuro che questi giorni ci abbiano aiutato a a compattarci ancora di più quindi quello che vi posso dire è che vedrete un Palermo che lotterà su ogni pallone che ci metterà il cuore che non so se vinceremo o no io lo spero ovviamente però quello che posso dirvi è che lotteremo su ogni pallone per poter portare a casa il risultato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.